L'Algeria è caratterizzata dalla diversità della sua cultura musicale, una regione dalla quale è interessati ai suoi strumenti musicali. E questo è il caso nel nostro grande deserto noto come il Musicians di Kanawi originali, che viene suonato attraverso lo strumento karkab o quello che viene chiamato il karkab o il shbekya. Si compone di due parti nella stessa forma che sono fatti di percorsori di metallo, con due picchi e due basi, che aiutano a mettere il ritmo appropriato. Durante gli anni 70 molti laboratori specializzati nella fabbricazione di questo strumento musicale grazie ai quali è stato in grado di entrare nella musica di Kanawi nel mondo. Stanno esistendo a un grande caranza in questo settore. E questo è dovuto alla riletanza dei giovani a imparare questo artigianato da un lato. E la loro direzione verso un'attività reticissima. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.